Maestro Tessa ci siamo per l'appuntamento contemporaneamente 2017 con le note ritrovate a quattro appuntamenti presso la Chiesa del Carmine. Sì, anche per il 2017 abbiamo riproposto la nostra ormai sagionale rassegna contemporaneamente che quest'anno include anche l'evento delle note ritrovate. Una rassegna ormai giunta alla non edizione, una rassegna dedicata alla musica contemporanea ma comunque agli eventi di tematica contemporanea per cui abbiamo sia eventi di matrice di musica contemporanea come l'ensemble New Made che aprirà la rassegna il 31 ottobre e Giovani alla ribalta il 18 novembre abbiamo voluto ospitare la Bel Passo School Orchestra che è un'orchestra giovanile che fa repertorio jazz e che ha vinto recentemente il primo premio assoluto a un concorso nazionale molto importante, il Santo Alfonso Maria dei Ligori di Pagani con cui abbiamo creato una convenzione. E non ultimo ovviamente come importanza, ultimo come data ma l'appuntamento delle note ritrovate che come al solito si sviluppa sotto la forma del concorso di composizione quest'anno diciamo modificati in una call for score, cioè una chiamata alle composizioni per i giovani compositori da tutta Italia e anche da tutto il mondo infatti anche quest'anno abbiamo avuto partecipazione dall'estero, in particolare seguiremo tra i sette brani selezionati anche il brano di un compositore australiano abbiamo giovani compositori locali tra cui tre dei migliori allievi del conservatore Cimarosa che hanno scritto e che sono stati selezionati da una commissione ristretta che ha giudicato in questo senso, per cui riproponiamo l'evento delle note ritrovate in memoria del terremoto del 23 novembre del 1980. Infatti si tratta di una location o una scelta per caso? No assolutamente no, la chiesa del Carmine diceva bene il maestro è un nostro gioiellino e quindi io ho apprezzato molto come sempre le proposte del maestro che fa parte di un'eccellenza della nostra città che è il conservatore Cimarosa, quindi questa collaborazione con lui è importantissima e devo dire molto, ho gradito molto il fatto che il 23 novembre noi in qualche modo celebreremo la memoria di quella giornata tragica in musica, in un luogo importantissimo per la nostra città.